Benvenuti con la nostra rubrica Mare Sicuro, accanto a me il luogotenente Reina. Oggi parliamo di ambiente, come rapportarsi appunto con l'ambiente marino. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con la Guardia Costiera. Oggi parleremo di salvaguardia dell'ambiente marino e delle coste. La Guardia Costiera da sola purtroppo non riesce a contrastare gli innumerevoli atti, diciamo, di illeciti che vengono perpetrati a danno del mare, della costa e del demanio in genere. Quindi lanciamo un appello a tutti i cittadini perché si alleno con noi nella diffusione di una vera e propria cultura del mare. Cioè i cittadini devono, ormai non è più il tempo di rimandare, prendere coscienza ambientale per fare in modo che questo inestimabile patrimonio naturale che abbiamo venga preservato per le generazioni future. Non è più ammissibile che ancora lungo le nostre spiagge vengano abbandonati rifiuti di ogni genere. In mare si trova di tutto ancora. Quindi facciamo un appello a tutti, di portisti, bagnanti che ora si apprestano a frequentare le nostre meravigliose spiagge, a collaborare con noi. Quindi segnalando alla Capitaneria eventuali illeciti, eventuali abusi, immediatamente, tramite il famoso numero 1530, quindi facilmente accessibile. E quindi diventa un imperativo categorico difendere le nostre spiagge, difendere il nostro mare, le nostre calette, i nostri fondali. Di recente Papa Bergoglio ha citato nella sua enciclica, ha laudato sì, che il creato è una casa comune da difendere. Quindi non possiamo più rimandare ai nostri figli ciò che dobbiamo compiere noi oggi per salvaguardare il futuro dell'ambiente marino e costiero. Quindi noi facciamo un appello ai diportisti che non abbandonino nulla in mare, che l'olio usato del cambio che fanno ogni anno per i motori lo raccolgano negli appositi contenitori e lo rilascino a terra per la raccolta degli oli usati. Anzi, se incontrano durante le loro navigazioni degli oggetti galleggianti, presumibilmente bottiglie di plastica o altro, che li raccolgano e poi li conferiscono negli appositi contenitori a terra. Ai bagnanti che si apprestano a frequentare le nostre spiagge consigliamo di non abbandonare nulla in spiaggia, soprattutto si trova di tutto ancora, bicchieri, piatti di plastica, bottiglie, mozzicone di sigarette. Quindi dobbiamo imparare a lasciare spiaggia soltanto le nostre impronte. Quindi facciamo un'azione comune per rispettare e difendere il nostro caro ambiente. Se no non avremo più questo famoso e bellissimo continente blu che ancora riesce, malgrado tutto, a regalarci emozioni, vita e soprattutto futuro. Colgo l'occasione per ricordare che il 20 luglio è l'anniversario del 150esimo anno della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Quindi per noi è un giorno particolare. Ricordo a tutti il famoso 15-30 per l'emergenza in mare e la Guardia Costiera di Mazzara del Vallo augura buone vacanze a tutti. Grazie. Grazie, rimandiamo all'appuntamento a venerdì prossimo con la rubrica Mare Sicuro.